Con gli ultimi annunci è stato rivelato il Team Malvagio che sarà presente in Pokémon Sole e Luna, ossia il Team School, il quale ha occupato una fetta molto ampia degli ultimi trailer usciti, sia quelli occidentali che quelli orientali. Proprio di essi mi occuperò oggi. In questo video infatti ho intenzione di setacciare ogni frame dei due trailer nel tentativo di scovare i luoghi dove il Team School attaccherà in Pokémon Sole e Pokémon Luna ed infine abbozzare una mia idea sul loro scopo del gioco. Prima di iniziare vi avverto che questo video potrebbe contenere potenziali spoiler della trama, anche se si tratta di una semplice teoria, quindi non per forza vera e quindi potreste anche guardarlo e magari poi il gioco sarà diverso, ma in ogni caso se non ve la sentite vi consiglio di non continuare a guardare questo video. Detto ciò iniziamo subito. Partiamo ad analizzare il trailer occidentale. La prima ambientazione che viene mostrata nel trailer con il Team School sembra una zona aperta con alle spalle un centro Pokémon isolato. Sappiamo che l'unica cartina che disponiamo di Alola non è esattamente accurata, ma se c'è una zona che potrebbe ricordare questa ambientazione, si tratta di quel percorso costiero presente nell'isola più grande, dove vediamo anche un centro Pokémon particolarmente isolato. Inoltre, la recluta parla di molta strada fatta prima di giungere lì, facendoci capire che questo incontro si svolge in una parte del gioco avanzata, ma proseguiamo vedendo questa scena in una piazzetta con molte case attorno. Questo è sicuramente uno dei luoghi più difficili da collocare, perché sulla cartina non rileviamo affatto luoghi che possiedono tale conformazione, ma possiamo supporre che si trovino in una delle due metropoli della regione, situate rispettivamente in questi due punti di essa. Il prossimo frame d'altro canto ci conferma l'attacco alla metropoli di Melemele, facilmente distinguibile dalla torre dietro alla recluta e da quell'edificio blu di cui ancora non si conosce l'utilità. Abbiamo poi l'apparizione di Plumeria, anche qui lo scenario non è particolarmente indicativo, ma guardando la colorazione delle rocce e l'altezza di esse abbastanza considerevole, direi che l'isola è quella pressoché disabitata, per intenderci quella dove nel primissimo trailer appaiono sul Galeo e Lunala. Anche in questo caso notiamo che molti incontri ci sono già stati, dato che intima il personaggio di non mettere più i bastoni tra le ruote, stiamo parlando dunque molto probabilmente di un altro scontro verso la fine del gioco. L'ultima apparizione nel trailer italiano del Team School è il discorso che Guzman tiene a Kukui, dove notiamo un particolare ponte dietro al capo. Un ponte così può solo trovarsi nella zona con la torre giapponese, dato che lo stesso ponte è di chiara provenienza nipponica. Il trailer italiano ha forse tentato di celare il più possibile questi elementi, ma passiamo a quello giapponese, decisamente più ricco. In esso le prime due immagini confermano ancora di più l'attacco a mele mele, mentre il terzo mostra un canyon presidiato da ben 5 reclute. Considerando la striatura visibile sulle rocce, non abbiamo dubbi, si tratta della quarta isola, dove si trovano anche gli altari dei due leggendari. Ora come ora, con questa cartina è però difficile sapere quale dei tre canyon visibili sarà il teatro della battaglia. Proseguendo, notiamo altre due reclute appostate su una strada passante per una fitta foresta. Sono più che sicuro che si tratti di quel percorso sull'isola maggiore, che parte da quella particolare città rinchiusa tra alte mura. Questo perché, oltre che all'ambientazione della giungla, notiamo sempre alle spalle delle reclute un vulcano che sembra essere circondato da un allone di nebbia o vapore, descrizione più che sufficiente per capire che si tratta di quel gigantesco vulcano innevato. A proposito della città fortificata, la prossima immagine mostra un attacco proprio ad essa. Sembra in tutto e per tutto un attacco finale in stile fiordoropoli, strade chiuse e Tim in completo controllo della situazione. Vediamo poi quella maledettissima grotta che ci è stata più volte mostrata. Ora, identificarla è molto difficile, ma dato che l'unica isola che non riporta ancora attacchi è la seconda, suppongo possa trovarsi esattamente lì. Dove però? Se notate, in questo preciso punto notiamo una strada che sparisce misteriosamente all'interno di una montagna ricoperta di alberi. Potrebbe essere un luogo ideale per un posto del genere. Sta di fatto che non ho certezze a riguardo, so solo che potrebbe essere un'opzione. Il prossimo attacco non penso sia così difficile da identificare. Due reclute che paiono minacciare un uomo anziano. Sembra un classico primo approccio col team nemico, esattamente come fece il team rocket al pozzo Slowpoke, e le staccionate mi portano a credere che si trovi in questo punto dell'isola di Melemele e che si tratti appunto del primo faccia a faccia con il team School. Per i successivi secondi del trailer si ripetono alcune scene del trailer occidentale, ma con una piccola ma importantissima differenza. Infatti, in questa immagine notiamo Plumeria con alle spalle un edificio facilmente riconoscibile. Si tratta di questa costruzione situata sull'isola maggiore. Per la vicinanza con il primo attacco che abbiamo visto, posso pensare che si tratti dello stesso assalto, anche se non ne sono totalmente sicuro. Infine, notiamo il rifugio del capo, inidentificabile in questo momento, e la conferma dell'attacco nei pressi della torre giapponese dell'isola più grande. Con questo abbiamo terminato di analizzare questi due trailer. Riepiloghiamo. Se tutto ciò si rivelasse vero avremmo due attacchi alla prima isola, due alla seconda, quattro barra cinque alla terza ed infine due alla quarta. Ora, poniamo che il giro delle isole si svolga in senso orario. Sappiamo che la quarta isola presenta quella piramide legata ai leggendari, dunque probabilmente quella sarà una delle destinazioni finali. Il fatto che le reclute difendano il canyon in cinque avvalora tutto ciò. Prima però avevo detto che l'attacco della città fortificata aveva quasi l'area di un assedio finale e che sembrava veramente la fine di tutto. Beh, se notate però, il porto si trova esattamente dall'altra parte dell'isola. Questo può voler dire che questa città potrebbe essere l'ultima visitabile della terza isola. Secondo me, dopo quell'attacco, il team si dirigerà verso la quarta isola nel tentativo di interagire con i leggendari. Per farlo però dovrà pure aver ottenuto qualcosa. Cosa però? Proviamo a supporre qualcosa di fantasioso. Conosciamo il regno di Azoth e questa città ci si avvicina come idea. Ricordo che la mappa non sembra essere dettagliatissima, quindi quella potrebbe non essere l'esatta forma della città, ma a parte ciò sappiamo che nel regno di Azoth si trova Maghiarna, il pokemon meccanico, che secondo una teoria che ho già proposto sul canale, nasconde la pietra filosofale. Ora, la pietra filosofale permette in alchimia di ottenere l'onniscienza, ossia la conoscenza di tutti i principi fondamentali. Essa, chiamata Logos dai Greci, è rappresentabile anche con un terzo occhio. Già, Solgaleo e Lunala, che potrebbero essere risvegliati da Guzman in possesso della pietra, in quanto chi possiede il terzo occhio può risvegliare altrettanti terzi occhi appartenenti a qualcun altro. Trama suggestiva, ma comunque non particolarmente fondata, si tratta puramente di una mia idea. Infine, credo che 4-5 attacchi alla terza isola siano troppi. Sono convinto che lo scontro finale arriverà dopo il risveglio dei leggendari proprio qui. L'intuito mi fa pensare a quell'edificio bianco situato a sud che ha anche l'area di essere un rifugio, ma si tratta di una semplice supposizione. Qual è lo scopo del team malvagio? Potrebbe essere distruggere la tradizione di Alola, ma per ulteriori informazioni, dato che questa conclusione non l'ho ragionata io, vi invito a visionare il video in descrizione per maggiori dettagli. Bene, la teoria di oggi finisce qua, è stata una teoria molto sostanziosa. Spero che vi abbia intrattenuto e spero che vi sia piaciuta. Ditemi nei commenti se la ritenete valida, se avete qualsiasi segnalazione da fare. Scrivetelo tranquillamente, lasciate un like, commentate appunto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando ragazzi, i social in descrizione, perché tra l'altro per cercare i luoghi sulla mappa, ho chiesto anche l'intervento del gruppo Telegram, perché non è stato facile. E niente, detto ciao, noi ci becchiamo in un prossimo video!